E' mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e subito la beata, sempre verce di Maria, gli angeli santi, i uomini, i fratelli e i sorelli, di pregare per me il Signore di Nostro. Dio di potente abbia un segno forte di voi per noi i nostri peccati e ci conduca per la nostra età del Natale. Amo. Chiri e la Esa. Christi e la Esa. Christi e la Esa. Chiri 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 e la Esa. il mondo, accogli la vostra scuola. Tu che siedi alla destra del Padre, ammi i capi di lui, perché tu sono il Santo, tu sono il Signore, tu sono l'Altissimo di Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Gloria, 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 gloria